per questa camminata di prendere una madrina e un padrino una madrina l'avete conosciuta perché ho fatto 35 chilometri a piedi è stata una camminata e oggi sono felicissimo che sta qui e ve la voglio presentare che è angela l'avete conosciuta su facebook oggi è presente con noi è una vera guerriera una vera camminatrice quindi sono onorato di averla con me l'altra persona che farà il mio portabandiera che è un altro guerriero si chiama massimo come il gradiatore e lo potete vedere che gioca là sopra è quello con il cappellino questa camminata dedicata a loro la prima tappa Torvagliani che alta la scuola le prime impressioni ho finito la prima birra sono preoccupatissimo non trovo un al secchiello con le birre dove sta dov'è la birra aiuto eccoci qua questa la seconda volta il ritorno è ritorno il panino con salame l'hai portato no perché sono portieri 10 oggi vado a portare i tuc ah ok più leggeri ma stanno dicendo che c'era il panino con la porchetta la vivo vero si sempre con maionese però non so penso sì almeno d'aiuto un po' a scivolare il nuovo stomaco le prime impressioni da paura perfette da paura tutto a posto ancora poca birra però vedemo ciao vai impressioni da inizio meravigliose come la prima volta stavolta raddoppiato quindi ancora di più grande fabio scusa l'hai contati quanti siamo no non contati chi è questo che corre come fa il fabio a pronti si regge bellissimo fino adesso esperienza stupenda da rifare il prima possibile a me è piaciuta un pochino mi dispiace perché sto su questa grande fabio già finito quello se segue il metodo di tuo fratello non va bene noi seguiamo solo il saccarametro seconda tappa benzinaio kuwait c'è sta anche francesco detto scacco quello che porta al maderasino rosa nel video di emilio stella è caluta senza di parola questa volta è andata molto meglio dell'andata siamo pronte preparate abbiamo bevuto poca birra stiamo diciamo stiamo facciamo ciao seconda tappa bene 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 grazie siamo a metà strada che dici a metà dell'opera fa meno caldo della prima volta direi che sta abbastanza bene l'altra volta siamo partiti a mezzogiorno da agosto come hai detto prima tu sei la la macchina da guerra abbiamo la disperazione dopo le prime due tappe coscia gonfia siamo quasi grampi addirittura poco stretching allora vai sono in splendida forma ho bevuto solo una birra fino adesso non so se ne berrò un'altra ora o quando arriviamo tutto ok tutto a posto come va va bene una bella passeggiata tutti amici e siamo tutti felici per i bambini e per gli adulti sono nonno gino fornimento anche per il cane eh sì ci vuole eh parecchi chilometri corello grande massimo lui è il padrino no? lui è il padrino il porta bandiere ufficiale saluta ciao prossima tappa largo brotoline e poi si va a festeggiare minimo 5-6 birri a testa se no neanche li saluto anche Aldo è dei nostri grande Fabietto anche Aldo camminiamo camminiamo per far bene allora siamo arrivati adesso ultima sosta e andiamo diretti a festeggiare sorpresa per i bambini sorpresa per i grandi e festeggiamo insieme ultima tappa a Barnando il gigante è qui sta arrivando quindi adesso festeggiamo 3,2,1 quindi adesso festeggiamo 3,2,1 D'Avola! quindi adesso festeggiamo 3,2,1 D'Avola! 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 Grazie a tutti.